Produzione teatrale. I più grandi eroi della galassia. I malvagi più temibili. Tutti schierati in una battaglia memorabile. Il maestro Yoda è qui. Erosofio! La morte si ha fatto i suoi malvagi impreparati alla velocità della voce. Non ti consiglio di combattere. Non ti consigliere. Non ti consiglio di combattere. Non ti consiglio di combattere. Affrontami pure Inutile Affrontami pure Affrontami pure Affrontami pure Affrontami pure Oh Finalmente realizzi il tuo destino Non cedete alla superbia Prestate in guardia Inutile Restate in guardia Devele Ci sono altre strade per la vittoria. La malvagità continua a dilagare. La malvagità continua a dilagare. Per ora si attesta al 50%. Inchiniamoci al Signore Oscuro delle uccisioni. Non si aspettavano le forze speciali. Fermate la principessa. Saranno. Voi non volete combattere. Questi sono i frutti della ribellione. Il suo potere è notevole. Il piano è semplice. Ecco Fasma in tutta la sua potenza romata. Quattro. 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 Possiamo continuare. Basta! Totti, venti! Altezza! No! Indietro! La tua vita si spegne, ora. Oggi impareranno cos'è la paura. Non si aspettavano le forze speciali. E sbichiamo il nostro imperatore! E sbichiamo il nostro imperatore! E sbichiamo il nostro imperatore! Non abitu nostro. Non usiamo più potenza del necessario. Sbichiamo il nostro imperatore! Dove si arriva? No! Prova! Non è tutto come se... La sua arma sarà il mio troppo. Non è tutto come se... per la sua arma sarà il nostro imperatore! Oh mio! Che sfortuna! La mia ribellione è diventata in riacchio. La mia ribellione è diventata in piedi. Laggiù, vedete? Dammettila di prendertela con i miei! Guarda qui! E buccia! Ma state solo rimandando i militari! Militare! Jettro Coulter Militare! Grr!